Nuove minacce per il consigliere comunale Angela Bianchetti. La donna di Pace del Mela, nota anche per le sue battaglie ambientaliste, si è vista recapitare una lettera dai Toni Forti recante chiare minacce di morte. La missiva non è firmata ed è scritta in dialetto siciliano. Chiari sono i riferimenti all'attività di consigliere comunale della Bianchetti, che dal canto suo ha ovviamente denunciato il fatto alla stazione dei carabinieri di Pace del Mela. Non è la prima volta che Angela Bianchetti viene fatta oggetto di questo tipo di intimidazioni. Accadde già all'indomani della sua elezione al consiglio comunale, quando sul parabrezza della sua auto la donna trovò una busta contenente proiettili cui hanno fatto seguito altri atti e lettere minatorie. La diretta interessata intanto ha fatto sapere che le lettere minatorie rafforzano la sua determinazione nell'attività politica di legittimità, trasparenza, efficace ed efficienza nella gestione della cosa pubblica. Intanto Angela Bianchetti ha cominciato ad incassare diversi attestati di solidarietà, primo fra tutti quello del deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Duva. Attraverso un comunicato stampa Duva ha affermato di voler esprimere la sua vicinanza ad una donna che fin dal suo insediamento ha portato avanti battaglie di civiltà, legalità e trasparenza, non retrocedendo mai dinnanzi a minacce di alcun genere. Il deputato del partito di Grillo ha auspicato nel contempo che le forze dell'ordine possano fare luce su questi vili atti intimidatori il prima possibile. Solidarietà è giunta anche da Egidio Maio del Movimento Ambientalista Zero Vaste Sicilia. Grazie a tutti.